benvenuti e bentornati sull'angolo di saidori per un nuovo video qua sul canale quest'oggi parleremo così chiacchiereremo di che cosa si impara nella vita io spero che possa essere un diverso che possa farvi piacere che abbiate voglia di fare una chiacchierata virtuale qui con me perché insomma ogni giorno giustamente parlo di beauty e di makeup qualche volta di fitness e di moda di fashion così che sono insomma i temi principali trattati sul canale ma qualche volta sapete mi piace anche chiacchierare i miei video chiacchiera in smart altre volte proprio così ho deciso di trattare degli argomenti magari durante dei get ready with me spero che questa cosa vi faccia piacere perché ho notato che è gradita insomma che qualche volta fa piacere staccarsi da esseriti argomenti che abbiamo appena citato e magari chiacchierare mi sto tirando in faccia i cavi chiacchierare del più e del meno o comunque di cose che riguardano argomenti così della vita come avete letto dal titolo 46 cose che ho imparato nella mia vita perché 46 gira questo tag praticamente dell'età quindi quando si compiono gli anni ormai però li ho compiuti a novembre dicembre gennaio febbraio sono passati tre mesi oh mio dio un quarto sì un quarto dell'anno dei 47 che andrò a compiere è già passato mio dio beh comunque sia non è mai troppo tardi ho deciso di fare questo video sto cercando eccolo qua il file delle 46 cose che dovrei aver imparato secondo questo tag nella mia vita e quindi andiamo per ordine mi sono messa lì le ho scritte e vediamo un po di raccontarvele allora una cosa che ho imparato è aggiustare qualunque cosa ragazzi io sono veramente una che ha una manualità spiccata per quanto riguarda aggiustare il mio papà aveva un laboratorio dove aggiustava degli elettrodomestici le cucine microonde i frigoriferi le lavatrici e io gli stavo sempre dietro sempre attaccata a vedere come si facesse a riparare un qualcosa è un po tutto proprio mio papà a casa riparava tutto era quello di chiamavano un mastrogeppetto in famiglia i parenti gli amici così no quindi gli stavo sempre dietro e ho imparato ad aggiustare un sacco di cose infatti qualche anno fa ho riparato la lavatrice che non faceva più la centrifuga perché praticamente aveva un guasto ho comprato il pezzo di ricambio ho smontato la lavatrice il segreto ragazzi è guardare bene cosa smontate in modo da ricordarvi dove rimettere i pezzi se non poi vi manca qualche pezzo e vi avanza e quindi ho riparato la lavatrice ho riparato l'aspirapolvere ho fatto un sacco di cose anche quando per esempio Carlotta aveva fatto il trasloco mi ricordo che gli ho montato i pensili gli ho montato i mobili le ho montato le ho fatto le ho trasportato diciamo l'energia elettrica che aveva ai piedi del letto nella zona comodino quindi le ho fatto diciamo passare il filo elettrico fino a farlo arrivare al comodino perché giustamente doveva attaccare la bajulli insomma io so fare veramente qualunque cosa di queste robe qua so aggiustare che so da poco si era rotta la spina del ventilatore quindi ho tagliato il cavo ho comprato una nuova spina l'ho sostituita io so fare tutte strapano cos'altro ho fatto insomma tutte ste robe mi piace a parte che mi piace tantissimo farle ma proprio ci riesco le faccio tutte altra cosa che ho imparato a fare in 46 anni è usare la tecnologia perché ragazze quando io ero piccola giovane ovviamente non c'erano i cellulari non c'era youtube non c'era il computer quindi io sono arrivata a una certa età a quella età insomma in cui oggigiorno tutti hanno utilizzato c'è un ragazzo che è nato 10-20 anni fa sa usare benissimo il computer e io invece sono arrivata ai 20 e rotti anni che il computer non lo sapevo usare l'ho comperato il mio primo computer che avevo già 25 anni forse anche oltre nonostante ci fosse mio fratello a casa che lo usava però mi ricordo l'avvento di internet e il capire cosa fosse internet e soprattutto l'andarci solo per pochi minuti poi spegnere tutto perché mia mamma diceva no consumate un sacco di soldi perché era tempo a sessioni cioè tu aprivi internet e cominciavi a guardare l'orologio perché ti perveniva l'ansia che arrivavano delle bollette stratosferiche puoi capire proprio che cos'era la rete capire che cos'era google capire che cos'era una ricerca fatta sulla rete ti veniva voglia di cercare qualunque cosa per il gusto di vedere che cosa ti dicesse dall'altra parte il motore di ricerca era una cosa che oggi a pensarci sembra assurdo tutta l'adolescenza che ho passato ovviamente senza il cellulare il primo cellulare l'ho avuto mi ricordo nel 96 e quindi avevo già 25 anni ed era stranissimo avere il cellulare insomma ho imparato a usare la tecnologia senz'altro nell'arco della mia vita non sono nata con la tecnologia terza cosa sono una tipa ho imparato che io proprio sono una persona da poche amiche è una tipa da poche amiche cioè io non ho tante amiche non ho mai avuto tante amiche ho poche amiche molto care molto molto care che per me sono come parte della mia famiglia a cui voglio veramente tanto bene per cui farei qualunque cosa per me sono proprio persone importanti basilari colonne portanti della mia esistenza però no no tante amiche non sono mai stata quella che ha un sacco di chiamate un sacco di conversazioni chat con chiunque che insomma va a un sacco di cene di feste di party è piena di vita sociale ecco ho delle nicchie di persone molto selezionate ovviamente da me dal mio punto di vista a cui voglio veramente tanto bene quarto ho imparato qualcosa anche sull'amore 46 anni e secondo me ci sono tre cose fondamentali per far mandare avanti un rapporto per farlo anche durare che sono la stima la pazienza e l'attrazione fisica se mancano se manca una di queste tre cose è difficile mandare avanti un rapporto bisogna stimarsi bisogna avere tanta pazienza perché accettare i difetti dell'altra persona non è sempre semplice bisogna anche avere pazienza quindi non scattare subito ragionare e ho imparato quindi a essere meno impulsiva a pensare molto bene prima di parlare nonostante che io abbia avuto assolutamente abbia ancora nella mia vita quegli impeti di impulsività che mi contraddistinguono nel quale dico un po' la qualunque ecco però nelle cose fondamentali importanti secondo me ci vuole tanta pazienza cosa che ho imparato ragazzi è che ho una persona cara al mondo più cara di tutte e questa persona è mio fratello roberto non potrà mai cambiare questa cosa chiunque arriverà nella mia vita chiunque ci sarà amicizie amore insomma tutte le persone che compongono la mia vita vengono dopo mio fratello perché mio fratello per me ho un po' capito che è qualcosa di più di un fratello ma è un affetto quasi materno che io ho nei suoi confronti perché lui è molto più piccolo di me l'ho visto crescere l'ho visto proprio bimbo andavo ad accompagnare la scuola lo portavo a scuola calcio lo portavo in piscina lo andavo a riprendere qualche volta quando usciva con gli amici le prime volte perché io avevo già ovviamente la patente abbiamo quasi insomma abbiamo 13 anni di differenza quindi quando lui è andato in prima elementare io avevo 19 anni in sostanza per cui mi ricordo ancora la nostra foto davanti a casa mia di lui con lo zainetto sulle spalle e me insomma giovane donna che poi lo avevo accompagnato a scuola quindi mio fratello è la cosa più importante del mondo se sta cosa che ho imparato è che io in realtà non mi abbatto mai cioè sembra che ci siano dei momenti nella vita ne ho avuti ovviamente come tutti in cui veramente mi sono lasciata andare alla disperazione alla tristezza ma poi in realtà dura qualche tempo a volte più a volte meno dipende da quanto giustamente sono gravi le cose che accadono nelle nostre vite no? però mi rialzo sempre cioè io non mi abbatto reagisco e spesso sono anche un po' più tipo potenziata da questa cosa quindi non mi abbatto la settima cosa che ho imparato ragazzi è che io non sono capace di metterci poco per fare una cosa quando dico faccio fretta in realtà io arrivo sempre in ritardo perché sono una pignola perché quando faccio una cosa la devo fare super in maniera precisa se mi prendo un compito da fare che penso di sbrigare in poco tempo in realtà ci metto un po' più di tempo del previsto un po' tanto più tempo perché sono una pignola non faccio mai le cose così insomma tanto per ma devo andare a farle straminuziosamente tutto questo ragazzi tranne che per preparare il pranzo io sono velocissima a preparare il pranzo in dieci minuti avrei tentavo la primo secondo e contorno sono veramente una spadellatrice veloce anche perché cucino molto semplicemente ottava cosa che ho imparato è che non mi interessa e non riesco a far credere alle persone di essere loro amica quando non mi piacciono quando non le sopporto e quando di loro non mi interessa anzi viceversa ho proprio una indifferenza verso queste persone che è paleso in maniera piuttosto evidente appunto se no non sarebbe palese e quindi non ce la faccio per me le finte amicizie i finti legami le questioni di apparenza non esistono non fa parte di me a volte avrei anche voluto magari in certe occasioni bisognerebbe un po' più far buon viso a cattivo gioco ma io non riesco le persone che non mi piacciono se ne accorgono perché io non sono una che riesce a mantenere questi rapporti di circostanza nona cosa ragazze le cose che più amo nella vita ho imparato che sono e me le sono segnate la Sardegna il mio lavoro qua sul canale quindi l'angolo di Saidori è una delle cose che amo di più lo sport, lo shopping, leggere e soprattutto l'abbraccio che do a mio fratello tutte le volte che lo rivedo e purtroppo lo vedo di regola una volta all'anno quindi proprio quell'abbraccio che gli do è una delle cose più care di tutta la mia esistenza e sicuramente di tutto l'anno decima cosa che ho imparato è che ci sono delle cose che odio odio, odio e sono il latte, non lo tollero ragazze volare farmi tagliare i capelli e farmi massaggiare odio queste due cose viaggiare in auto se non guido io, cioè proprio mi è intollerabile se io non guido sto in ansia, non mi piace per niente detesto la musica tecno e odio il kebab queste sono proprio le cose che non mi piacciono undicesima cosa ho imparato che amo alla follia le serate semplici se volete farmi felice dovete preparmi una semplice serata al ristorante o a casa d'amici con la cena, magari vedere un po' di tv e fare una chiacchierata, magari berci una tisana queste per me sono le cose che mi piacciono di più non sono una tipa mondana, non amo tanto trascorrere delle serate troppo movimentate, particolari mi piacciono le cose semplici quindi uno spaghetto al pomodoro, un bicchiere di vino rosso, un po' di musica, un po' di chiacchiere magari giochi di società, risate, musica queste sono le cose che mi piacciono fondamentalmente a casa o in dei posti tipo locali molto tranquilli dodicesima cosa che ho imparato è che in una vita, quando questa vita è un po' lunga quindi l'ho imparato nel tempo, arrivando ai 30, poi ai 40 e poi ai 45 e sorpassandoli che in una vita si possono vivere tante vite io ho come l'impressione, nonostante io sia piuttosto giovane ritengo insomma voglio dire, spero di avere una lunga vita doppia almeno rispetto a quella che ho adesso quindi arrivare tranquillamente ai 90 anni però mi rendo già conto che nei miei 46 ho vissuto più vite posso ricordare proprio tipo dei blocchi di vita e la mia vita di adesso è molto molto diversa dalla vita che avevo quando avevo 18, quando ne avevo magari 28, quando ne avevo anche 30 c'è proprio 30 inrotti intendo, 30, 35, 36 fino ad arrivare 40 insomma ho vissuto nella mia vita tante vite e ho imparato che molte volte delle fini dei finali, delle cose che sembrano una fine hanno sempre poi un inizio molto diverso cioè magari sono delle porte che si chiudono per aprire nuovi capitoli diversi ma magari altrettanto arricchenti, altrettanto interessanti altrettanto avvincenti della vita questo ci ho dovuto riflettere un po' tanto perché invece spesso viviamo delle sezioni di vita che abbiamo vissuto come dei fallimenti, delle cose negative però poi dopo mi rendo conto che quasi sempre c'è stata un'evoluzione un mio cambiamento e magari anche un inizio di nuove esperienze magari anche molto positiva la tredicesima cosa che ho imparato è una realtà molto dura molto triste anche è che praticamente ci sono dei dolori che vivi quando sei bambino nel mio caso ce n'è stato uno molto grave che ho già detto qualche volta qua sul canale è che è la morte di mia sorella che ho vissuto quando avevo 10 anni e che mi ha segnato profondamente purtroppo dei dolori che vivi da bambino e che gli altri intorno a te non percepiscono che tu abbia avuto in questa maniera così importante abbia subito in questa maniera così importante in realtà ti segnano profondamente e te li porti dietro per tutta la vita non è che siano particolarmente risolvibili ti rimangono lì e ti cambiano inesorabilmente quattordicesima cosa che ho imparato ragazzi è che sembro una persona estroversa sembro una persona estroversa a chi mi conosce poco perché in realtà sono una persona molto chiusa molto... faccio fatica a esternare i miei sentimenti o meglio li esterno con poche persone come dire fare un rodaggio per sentirmi a mio agio sono una persona che parla tanto ma del più del meno e mentre di me stessa dei miei problemi delle mie cose che mi preoccupano faccio molta fatica a parlare sono molto 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 introverso quindicesima cosa che ho imparato purtroppo è un'altra cosa un po' negativa ragazzi ma come vedete si alternano le esperienze positive e le esperienze negative che mi sono arrivate in questi 46 anni di vita è una di quelle negative che quando ti dicono fidati stai tranquilla al 90% delle volte tu sei nella M proprio fin qua cioè quando ti dicono fidati iniziate a avere paura perché è finita lì quindi questa è una cosa che ho imparato una lezione proprio appena sento la padora fidati e tranquillo inizio ad avere paura la dicesima cosa che ho imparato è che sì è vero che ho paura di viaggiare di volare ma non tanto di viaggiare ma di volare però che il viaggio più desiderato quello che mi ritorna nella mente che proprio vorrei veramente fare e che se dovessi vincere la paura di volare farò è un giro degli Stati Uniti d'America magari da costa a costa nella mia testa magari addirittura con un'amica stile Thelma e Louise cioè tipo mi ci vedo che so con Vittoria con un'amica insomma con cui ho una grande intesa e fare questo coast to coast un po' l'avventura non mi dispiacerebbe affatto anzi sicuramente la cosa che mi piacerebbe fare di più a livello di viaggi la dicesettesima cosa che ho imparato torno ad essere un po' malinconica ragazzi è un po' il fatto che nella vita sei comunque solo cioè per quanto ci possono essere affetti persone care persone che ti stanno vicino come si dice a Milano ti devi un po' disciulare da solo cioè un pochino una mossa te la devi dare da te devi svegliarti devi azionarti perché nessuno verrà a bussare alla tua porta nessuno verrà per dire a proporti un lavoro se non ce l'hai nessuno verrà a darti la pappa pronta nella vita sei solo si nasce solo si muore solo è una grande verità hai delle persone che ti accompagnano nella vita ma devi essere pronto a prendere le redini della vita da solo non nel senso di solitudine perché poi comunque la vita è contornata di persone care di amore nella coppia di persone amiche che ti stanno vicino dalla famiglia per carità non voglio dire questo ma sei comunque tu ecco l'artefice della tua vita la devi prendere in mano devi comunque darti da fare in maniera autonoma diciottesima cosa che ho imparato è che nella vita bisogna buttarsi per cercare sempre di migliorarsi un po' è collegato a quello che ho detto prima quindi che nella vita si è soli e bisogna darsi da fare ma che bisogna anche un pochino rischiare il mio motto è sempre quello di tenere un piede nella terraferma e l'altro magari può andare a tastare il terreno un po' instabile che sta davanti a noi un po' bisogna buttarsi bisogna provare bisogna cercare sempre di migliorarsi non mi piace la parola accettazione dove accettazione significa tenersi i propri limiti senza cercare di dare loro una chance di miglioramento laddove invece magari accettazione significa realisticamente fare i conti con delle cose insuperabili allora ci può stare ma quando accettazione significa arrendersi no non mi piace mi piace che una versione diciamo di me stessa combattiva una versione di me stessa che punta al miglioramento in tutti i campi sempre la novesima cosa che ho imparato ragazzi è un'altra tipo come si dice le massime quelle di saggezza è che chi agnello si fa il lupo se lo mangia quindi non fatevi vedere troppo vittime perché sennò c'è un lupo sempre lì pronto ad azzannarvi nel lavoro nella vita nell'amore nell'amicizia sempre fate vedere che siete delle persone buone gentili perché secondo me guardate la bontà ok ci sta la bontà ma la gentilezza è veramente doterara nel mondo di oggi e secondo me se voi vi comportate in maniera gentile otterrete gentilezza ma questo non vuol dire essere fessi dovete essere fermi in determinate posizioni fermi in determinate idee che vi guidano che vi sostengono dovete farle capire al prossimo chiunque esso sia nel mondo del lavoro ripeto nel mondo dell'amicizia dell'amore della famiglia dappertutto non fatevi agnelli perché sennò c'è un lupo pronto a mangiarvi ventesima cosa che le cose non arrivano così cioè nella vita ho imparato che il gratta e vinci rimane un sogno così abbastanza no che difficilmente si realizza la realtà della vita è che se vuoi qualcosa te lo devi sudare te lo devi guadagnare ci devi lavorare vedo spesso i video di Montemarco Montemagno non so se voi lo seguite e una volta disse appunto che lui faceva ping pong quando era ragazzo e molte volte non aveva voglia non andava all'allenamento diceva ma sì ma alleno domani oggi oggi no rimando eccetera e c'era invece un altro suo collega compagno di allenamento insomma che tutti i giorni 40 dritti 40 rovesci 40 così 40 colà si allenava si allenava si allenava si allenava si allenava arrivati poi alla resa dei conti quindi ai campionati ora non so come fossero strutturati comunque i campionati dove la ciccia doveva venire fuori quello vinceva lui no giustamente si era sudato la 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 il suo la sua gara che poi aveva vinto no nella vita nessuno ci regala niente quando vedete che so un atleta avere una performance quell'atleta ha passato magari le ore i giorni le notti che gli altri magari hanno passato a divertirsi a sudare sulla sua performance quindi magari a provare a riprovare quello che è il suo gesto atletico una persona che si è laureata con il massimo dei voti ha messo il culo sulla sedia e si è messa lì a studiare un'altra insomma è così via nella vita nessuno ti regala niente se qualcuno ha qualcosa se l'è sudato e quindi è giusto che ce l'abbia e funziona così ventunesima cosa che ho imparato è che per ottenere qualcosa la devi pianificare la strada è lunga però se tu non ti metti degli step non riesci ad arrivare all'obiettivo una pianificazione a mio avviso è necessaria ventunesima cosa l'orgoglio non mi piace l'orgoglio lo odio trovo che sia un sentimento deleterio e che spesso ci porta sulla cattiva strada è un po' collegato alla gentilezza a mio avviso l'animo gentile è un animo che rinuncia all'orgoglio e magari sa dire scusa sa dire ho sbagliato sa mettere da parte il proprio io per fare spazio a sentimenti più nobili questo secondo me è veramente importante ventitresima cosa ragazze è soltanto metà strada mamma mia che non ho imparato che non è mai troppo tardi per imparare qualcosa non sentitevi vecchi per iniziare una nuova avventura per studiare magari che so l'inglese per imparare il giapponese per andare in palestra per la prima volta non è mai troppo tardi per studiare per imparare c'è sempre tempo ed è sempre un buon momento per iniziare ventiquattresima cosa che ho imparato è che per andare d'accordo con tutto il mondo di affetti che ci circonda per avere delle relazioni soddisfacenti con gli altri esseri umani dobbiamo metterci un po' al centro del mondo le persone più importanti siamo noi e quindi dobbiamo prima di tutto rendere conto a noi stessi curandoci nella nostra salute nel nostro animo intrattenendo intrattenendo delle relazioni sociali soddisfacenti relazionandoci con persone che ci rendano felici insomma badando bene di non farci del male in alcun modo perché alla fine poi le persone più importanti nella nostra vita siamo noi la venticinquesima cosa che ho imparato è che la parte più bella a mio avviso di tutto il creato quindi proprio se io guardo il mondo gli esseri umani la natura eccetera la parte più bella sono gli animali cioè per me la parte più bella è commovente pura restano gli animali ventiseiesima cosa che ho imparato è che dovunque io vada ragazzi non mi commuoverò mai abbastanza come quando metto piede in Sardegna per la prima volta dopo che è un anno che non ci vado quando la nave attracca e io vengo giù dalla nave vado giù dalla nave mi commuovo da morire non ci sarà mai un posto che mi susciterà queste emozioni ventisettesima cosa che ho imparato che si può essere veramente amiche anche se si è distanti il fatto che Vittoria si sia trasferita da aprile 2017 alla Spalmas mi ha insegnato che posso intrattenere un soddisfacente rapporto d'amicizia nonostante la lontananza questo non lo sapevo ventottesima cosa che ho imparato è che nella vita bisogna essere delle persone serie ma non prendersi troppo sul serio quindi fare con dovizia con serietà ecco i propri doveri il proprio lavoro tutto ciò a cui ci si dedica ma senza prendersi troppo sul serio senza darsi troppa importanza senza drammatizzare o essere troppo presuntuosi in quel che si sta facendo ventinovesima cosa che ho imparato che è proprio il cibo più buono del mondo per me restano le castagne arrosto e i ricci di mare mangiati su lungomare a Cagliari cioè queste due cose per me restano le più buone del mondo trentesima cosa che ho imparato è che preferisco mille volte chi non mi chiama amore e tesoro ma fa i fatti piuttosto che che mi riempie di leziosità ma poi stringi stringi non c'è nulla trentunesima cosa che ho imparato è che comunque la vita può essere piacevole degna di essere vissuta interessante e che più ne va più ne metta anche senza essere mamma nonostante più io vado avanti con l'età più mi viene chiesta sta cosa e più mi vengono chieste spiegazioni e più mi viene detto ma sei felice lo stesso? sì si può essere felici anche senza essere mamme trentaduesima cosa che ho imparato ragazzi a guidare mi stavo dimenticando di guidare che è una delle cose fondamentali io non posso vivere senza macchina sono una che fa tante camminate cammina non ha mai problemi a camminare anche per chilometri e chilometri ma sono macchina dipendente ho preso la patente che ho fatto il foglio rosa non avevo neanche 18 anni e 17 rotti e quindi ho la patente da trenta anni la trentatresima cosa che ho imparato è che io sono una tipa da gatto quindi l'animale che va bene per me è senza dubbio il gatto proprio il gatto mi somiglia tantissimo nel carattere siamo proprio compatibili io e il gatto viviamo in perfetta sintonia ho avuto qua a casa per sei mesi come sapete la gatta di Vittoria Bijou e me ne sono innamorata produttamente e per 21 anni anzi 22 adesso compirà a marzo noi abbiamo in casa adesso sta con la mia famiglia giù a Cagliari la nostra Trilli che è la gatta di famiglia quindi io ho proprio imparato nella mia vita che sono proprio affine al gatto io sono gatto trentaquattresima cosa che ho imparato è che non devo giudicare alla prima impressione devo dire la verità sono una che tende a farsi un po' un'impressione come tutti appena vedi una persona mi salta subito in mente che cosa penso di questa persona ma la realtà è che io ho imparato che questo è sbagliato perché devo dare tempo alle persone devo dare modo a queste persone di farsi conoscere qualche volta non sempre però insomma mi è successo di cambiare diametralmente opinione su una persona e mi sono sentita in colpa per questo e questo mi ha insegnato di aspettare un po' contare un po' lascerà agli altri la chance di farsi conoscere e non emettere subito un giudizio trentacinquesima cosa che ho imparato è che i lutti non si superano ma i lutti ti trasformano ti rendono una persona differente impari a conviverci e diventi qualcun altro che poi ti porti avanti nella vita questo qualcun altro che sei diventato con quel fagotto che purtroppo rimane un po' trentaseiesima cosa che ho imparato è che il tempo qualcosa te la toglie ma ti dà qualcos'altro in cambio quindi non è mai un sottrarre ti dà qualche ruga in più però ti dà qualche altra cosa magari qualche certezza qualche consapevolezza qualche insegnamento e penso che sarà così anche nei futuri anni man mano che si procede qualcosa ci verrà tolto e qualcos'altro ci verrà dato trentasettesima cosa che ho imparato è che devi essere riconoscente il successo che hai nel fare le cose non è mai solo merito tuo ma sempre c'è il merito di qualcun altro che ti ha aiutato che ti ha supportato che dietro le quinte ha fatto qualcosa per te è la riconoscenza che un po' si collega a quel concetto che sto sviluppando soprattutto questi ultimi anni della mia vita e cercare di essere più gentile e cercare di essere riconoscente ed esprimerlo alle persone che se lo meritano trentottesima cosa che ho imparato è che io adoro stare da sola cioè a me piace moltissimo ritagliarmi degli spazi in cui sono da sola amo stare in compagnia l'estrema solitudine non è che faccia per me cioè io non sono di certo una di quelle che potrebbe fare l'eremita però mi piace stare da sola riesco a gestire i miei momenti di solitudine a ricavarne degli spazi piacevoli a fare delle cose sola con me stessa a leggere studiare allenarmi non lo so fare delle cose in perfetta solitudine non mi dà angoscia ma mi piace certamente non sempre mi piace assolutamente avere delle persone con cui condividere con cui dividere la mia vita ma mi piace molto anche stare da sola trentanovesima cosa che ho imparato se non ho perso il conto è che la cosa più importante di tutte quindi se devo fare una lista di tutto ciò che ho detto in questo video questa la metto al primo posto è la salute non c'è niente di più importante della salute e quando ti viene a mancare se ti rendi conto che non ce l'hai tutti abbiamo avuto quei momenti di ipocondria in cui ci siamo convinte di avere qualcosa in quel momento sono sicura che ognuna di noi si è detta ma quando mai ho potuto pensare di essere disperata in quest'altra occasione che adesso ho paura di avere qualche malattia e veramente adesso sono disperata per non parlare poi di chi veramente l'ha vissuta questa tragedia e magari l'ha superata e quindi è stato malato gravemente e si è scontrato fortemente con questo tema quindi abbiamo rispetto anche di dare la giusta valenza ai vari dolori della vita che ci capitano se perdiamo il cellulare se ci si spacca il cellulare non facciamo una tragedia come se fosse morto qualcuno perché bisogna dare un giusto valore a tutte le cose io ero molto così cioè quando ero molto più giovane drammatizzavo degli eventi piccolissimi magari che so perdevo un anello facevo delle scene veramente patetiche e poi mi sono resa conto perché purtroppo la vita a volte ti dà delle mazzate e lì capisci quanto eri stupida a dare valore magari a un evento che consideravi tragico poi rispetto a qualcosa che ti è successo dopo non era tragico per niente quindi cerchi di avere anche del rispetto di chi ha veramente una tragedia in corso e non tu che hai perso il portafoglio quarantesima cosa che ho imparato è che basta con sto dire sono vero sono vero sono vero sono così come mi vedi sono vero e quindi spiattellare a tutti quello che si pensa senza alcun ritegno come le persone che commentano su facebook dicendo agli altri qualunque cosa ma io sono vera ma io te lo dico in faccia dire in faccia e dire quello che si pensa chi che sia non è un pregio anzi è sintomo di maleducazione non è che se incrociamo uno per strada che è vestito di M gli diciamo che è vestito di M per rispetto non si fa non possiamo far fuoriuscire dalla bocca tutto quello che ci passa nel cervello con la scusa che siamo veri io non sono finto ci sono delle formalità quando si diventa adulti che vanno rispettate una di queste è appunto il non far fuoriuscire dalla bocca tutti i pensieri che ci passano nella testa quarantunesima cosa che ho imparato che bisogna chiedere scusa quando si è torto bisogna avere la forza di chiedere scusa fa bene a noi fa bene agli altri e fa bene ai rapporti che coltiviamo quarantaduesima cosa ci siamo quasi che ho imparato è che bisogna dare proprio spazio alla frivolezza la frivolezza ci aiuta ci aiuta a andare avanti nella vita ci aiuta a superare i problemi che abbiamo essere frivoli non vuol dire non essere profondi non è in antitesi non diciamo uno simoro se diciamo che uno è frivolamente profondo che è profondo ma frivolo perché sono due cose che possono tranquillamente coesistere possiamo dar spazio alla nostra più sfrenata frivolezza ma conservare assolutamente la nostra profondità possiamo dedicarci a leggere un libro di quelli super i classici insomma quelli che veramente tutti dicono leggi questo libro che ti darà qualcosa ma leggere anche un libro leggero guardare anche uomini e donne vederci una puntata di beautiful dedicarci ai trucchi e guardare un video di make up non ci toglierà niente se vogliamo essere profondi possiamo esserlo comunque quarantatresima cosa che ho imparato che non devi avere paura di cambiare se ti rendi conto che non sei felice è difficile farlo quindi non è che io tutte le cose che vi ho elencato sono tutte cose che io faccio riesco a fare ma che ho imparato ho capito che è così in teoria poi tra la teoria e la pratica c'è sempre un po' di distonia ma riesco riesco a capire che se uno non è felice deve cambiare deve per forza fare qualcosa per cambiare quella situazione proprio per il motivo che prima dicevo è che noi siamo al centro della nostra vita e della nostra esistenza siamo le persone con cui dobbiamo passare tutta la nostra vita ogni giorno della nostra vita la passiamo con noi stessi e quindi va fatto questo tipo di lavoro bisogna capirsi la quarantaquattresima cosa che ho imparato è che non bisogna fare quello che non vogliamo fare cioè se noi una cosa non la vogliamo fare non ci piace ci fa sentir male dobbiamo cercare di non farla non parlo ovviamente di che so andare a lavoro però sapete quelle cose che ci rendiamo conto di fare per dovere perché ci è stato insegnato così ma che in realtà non corrispondono all'essenza più profonda di noi stessi via aria pulizia rispettiamo appunto il nostro io non si fa quarantacinquesima cosa che ho imparato è che ho tanta paura del futuro mi angoscia il pensiero del futuro come tutti credo che sia umano aver paura di quello che arriverà magari anche perché uno pensa oh mio dio ma non saranno gli anni un po' più difficili la vecchiaia la menopausa il diventare più vecchia e ho paura quindi spesso mi trovo lì un po' così atterrita non tanto dalle rughe perché uno dice ma è paura di invecchiare perché è paura dell'estetica non è tanto l'estetica è proprio anche la solitudine magari che vedi in certe persone anziane il fatto che le vedi malinconiche il fatto che giustamente non so tanti pensieri che ti passano per la testa ecco io sono una che si angoscia abbastanza ho paura del futuro quarantaseiesima cosa che ho imparato è che 46 cose che ho imparato sono tante questo l'ho imparato oggi nello stilare tutte queste 46 cose ho detto ma sono tante 46 cose da imparare magari ne ho imparate anche di più ma ragazzi ho fatto fatica ad arrivare a 46 quindi ci ho dovuto un po' riflettere e basta io spero che questo video sia stato piacevole che cosa avete imparato voi qual è proprio una delle cose che avete imparato magari avete voglia di dirmelo avete voglia magari di condividere con me i vostri pensieri e fatemelo sapere nei commenti ovviamente mi dà di nuovo fastidio come ieri l'occhio io credo non avrò mica una congiuntivite con l'ipocondria che si fa strada beh insomma noi comunque ci vediamo domani io adesso mi vado a struccare a levare le lenti a contatto magari a fare una maschera perché sono stremata sono stanca è tardi e quindi ho voglia di vedere un telefilm e mettermi a letto e vedere un telefilm vi mando un bacio ci vediamo domani con un nuovo video ciao